E' no? Ok, perlustriamo più avanti e capiamo cosa ci aspetta. Dunque JD, la persona che poteva aiutarci era l'unica persona da cui non volevi aiuto. E' piuttosto ironico, no? Sì, sai cosa? Questo sì che è ironico. Ah, lo sapevo! Ok ragazzi, la strada fino alla diga è infestata da quei pezzi di merda. Oh, grazie c'è, bird. Ehi, figurati! Oh, merda, un carrier! Questa è sparacchia di industriali funziona! Sion al cancello! A proposito di cancelli, bird, siamo bloccati. Quei meccano sistemi di puntamento remoto, tu un miram e noi li facciamo esplodere. Grande! Ok, eseguire attacco aereo. Ok, eseguire attacco aereo. Cancello giù! Grande! Siamo passati! Ah, sicuri non ti ha aviti più nessuno. Grazie a ore 12! Serve più potenza! Attacco aereo! Ora! Lancio! Ah! Ora sì che ci divertiamo! Razzi lanciati! Ah! Eliminati! Una notizia buona e una cattiva! Quella cattiva è che uno sciame sta per attaccarvi! Ma dai! E quella buona? Eh... La buona notizia è che... Tu padre è molto orgoglioso di te! Eh... Vabbè, ok! È meglio se uccido qualche altro mostro! Lancio! Fatto! Via, verde, che mi tengo a questo mech! Ehi! Non pensarci nemmeno! Ok, in arrivo! Altri snatcher a ore 12! Ci pensiamo noi! Mizzili lanciati! Mizzili lanciati! Mizzagno trato! Peccato! Lancio! Mizzili in arrivo! Mizzagno distrutto! Mizzagno distrutto! Aspetta un attimo! Pare che la nostra unica via d'uscita sia attraverso quel muro! Richiedo attacco aereo! Attacco aereo in arrivo! Forza! Forza! Da questo ponte! Arrivano! Ok, ora c'è uno swarvac! Ma stamorda dovrà vedersela su uno della sua stazza! Lancio! Mizzili lanciati! Plancio! è spremato ma non è ancora morto suormach distrutto ora andiamo via da qui si ok